Buonasera amici, vi volevo presentare la Medina Trolling, una canna nata per la pesca alla trana costiera. Molto robusta e affidabile, anche dolce nell'azione, quindi acconsente combattimenti anche con prede importanti, c'è un fusto abbastanza importante ma è tutta dolce come canna. Ideale per la pesca con gli artificiali a tombarelli, palamita da letterati e da pesci pelagici di medie dimensioni. È costituita da un monopezzo unico, un'impugnatura in neoprene e praticamente una crociera da combattimento. Questa gamma comprende due misure da 6 piedi e 1, 1,85 m ed abbiamo una 12 e una 20 libre.